Per settimana sport siamo con Paudassi Matteo De Bra. Matteo, direi una bella partita, vi siete fronteggiate entrambe le squadre, occasioni ce ne sono state direi poche, le difese hanno sempre avuto la meglio. Dimmi un po' le tue impressioni sulla partita, che partite hai visto? Sicuramente venire qui a Ligorna sapevamo di affrontare una squadra forte, dovevamo stare molto attenti a difesa, questo probabilmente è stato un po' lo schema tattico di tutta la partita. Due squadre, penso, più attente a non prendere gol che a farlo, sicuramente le occasioni sono state poche, però devo fare complimenti alla mia squadra perché avevamo preparato un tipo di partita che siamo riusciti a riportare in campo, siamo stati attenti, abbiamo concesso poco a una squadra organizzata come Ligorna, torniamo a casa con un punto, proseguiamo il nostro percorso di crescita e adesso testa la prossima partita. Due gol annullati a Ligorna e un rigore da voi reclamato. C'era rigore? Devo essere sincero non l'ho visto, secondo me sono quelle situazioni in cui l'arbitro può darlo o non può darlo, secondo me magari con la mano la prende, però era molto attaccata al corpo, sono quelle situazioni un po' borderline, l'arbitro ha giudicato così, sicuramente non ci stiamo ad attaccare a questo episodio, sappiamo che se vogliamo far gol dobbiamo costruire di più, possiamo essere un po' più incisivi, lavoreremo su questo già a partire da venerdì e speriamo nella prossima partita di sbloccarla. Ok, grazie e buon rientro bravo. Grazie a voi. Ciao.